Salve a tutti carini iconisti e benvenuti ancora una volta sul canale Allora, vi racconto un aneddoto e poi dicono ovviamente che non devo bestemmiare Stavo facendo questi adattatori per la retina terza C grande Perché quello che ho fatto, che funziona benissimo per la seconda C piccolo Sulla terza non va bene E allora mi sono messo a fare questi adattatori Ne ho fatto uno, poi non mi piaceva perché era un po' troppo preciso Ne ho fatto un altro con un gioco un po' maggiore Adesso poi il gioco è un po' troppo Quindi adesso lo ridisegno un pochino più preciso Quindi vabbè, comunque sono andata alla conclusione che va bene il pezzo Però magari posso che farlo in PLA Lo stampo in TPU molto duro Che è, il TPU è gommoso Però il TPU che ho io è abbastanza duro Dovrebbe essere meglio per fare l'adattatore Questo qui viene montato, adesso non ricordo mai come viene montato Viene montato così Si innesta così perfettamente Poi sopra si monta una lentina di correzione di ottrica Adesso questa qui non è neanche della mia gradazione ma tant'è Però comunque invece vedo abbastanza bene con questa lentina qua Anche se non è la mia ma fa niente E va su Se no si può mettere un adattatore da questo tipo di formato qua Quadrato A quello tondo Da 19 mm O anche quella che è comoda E per quella lì ho le gradazioni giuste E va bene Provando sta roba l'ho messa su E funzionava Poi tirando giù E provando a sfilare quel roba lì Che tra l'altro questo qui è quello Il secondo che ho fatto È quello meno preciso Quindi ha più gioco Quindi deve essere più semplice da estrarre E straendolo si è spaccata questa roba qui Ok questi cosi qui sono molto vecchi Perché non è che sono usciti dalla fabbrica ieri Sono fatti di plastica Plastica dura Tra l'altro sono delle macchine economiche Queste qua delle Nikon tipo Mi sembra che è quella dell'F301 Che è fatto uguale Se non mi ricordo più da che macchina arriva Fatto sta Che si è spaccato E ho detto vabbè Mannaggia La sfortuna Comunque fa niente Allora visto che tanto poi Questa lentina qui va abbastanza bene Me la fisso Me la gari Me la incollo O metto un pezzettino di scoccettino Che la tiene attaccata A uno di questi datatori che ho fatto Quindi boh Quella lentina lì la uso sempre Su una delle due Retina Terza C grande E va bene no? Ok ho detto vabbè Adesso non sto a rifare O disegnare Cioè devo modificare una stupidata Ovviamente no? Per fare il gioco giusto Come mi andava bene Non sto neanche a stampare un TPU Perché devo ovviamente impostare Lo slicer Per esportare un G-code Per il TPU E non ho voglia E va bene Quindi me lo stampo Un altro giorno Sono stampato con la stampante 3D Allora mi sono messo a ritirare Ho preso la custodia Che c'era attaccata L'altra parte Qui tra l'altro c'è porcheria Sul tavolo ovunque È caduta E questo qui era già Era già rovinato Perché era già consumato Sono macchine molto vecchie Ma cadendo ovviamente Con attaccato questo qua Che è pesante Si è stortato E si è spaccato Adesso ditemi Anzi Facciamo così Datemi un buon motivo Per non bestemmiare Cioè Perché Perché tu Una domenica Ti metti a fare un lavoro Che dovrebbe essere rilassante E diventa Una merda E poi si rompe Anche sto coso qui Ok era rovinato Cioè Chiaro che Vedete com'è la pelle No È vecchio e tutto quanto Infatti sta custodia qui Non me la porto in giro Perché è tutta un po' Rovinata Non mi fido dei ganci Eccetera Però dai Ma perché Cioè Che palle Che palle Adesso Basta Abbandonano la missione Mi sono rotto le palle Mi sono rotto le palle